Avvisa la persona. Che cos'è l'avviso carmico? Commento. Presso il cerchio K le guide immateriali chiamano avviso carmico l'evento doloroso che avvisa la persona della possibilità di un evento più doloroso se la persona persiste nella sua limitazione. Sta alla persona se è pronta approfittare dell'avviso carmico per abbreviare la sua persistenza nella limitazione. Naturalmente l'avviso carmico è permesso dall'evoluzione della persona.